È stata condotta dai carabinieri forestali l'operazione che ha portato al sequestro di una parte della diga di Montedoglio, proprio quella interessata dai lavori di ripristino della parte che, lo ricorderete, era crollata nel dicembre 2010. Con l'accusa di smaltimento illecito di rifiuti è stata sequestrata una parte della diga e alcuni impianti della Valtiberina. I carabinieri forestali della stazione di Sansepolcro hanno agito in collaborazione con il gruppo ambiente della procura di Arezzo, coordinati dal PM Angela Masiello. In particolare, le terre e le rocce provenienti dagli scavi venivano sottratti dalla disciplina dei rifiuti mediante false certificazioni e destinati a finalità diverse da quelle previste. I due impianti della Valtiberina li immettevano, secondo l'accusa, nei propri cicli produttivi senza autorizzazione e in assenza di tracciabilità ambientale. In un caso c'erano in giacenza 5.000 metri cubi di sedimenti fluviali prelevati dal fiume Tevere. Nell'altro stabilimento, invece, si superava del quadruplo il quantitativo autorizzato di rifiuti da trattare. Ad una ditta che lavorava presso l'invaso sono stati sequestrati anche mezzi professionali per trasporto rifiuti senza autorizzazione. Le indagini sono tuttora in corso per identificare le varie responsabilità delle aziende che a vario titolo hanno operato nell'area. Il sequestro di parte dell'invaso, essendo del demanio, è stato eseguito nei confronti dell'ente proprietario. I lavori, attesi da dieci anni, da quel crollo che fece paura a un'intera provincia, sono stati parzialmente interrotti.